Ciao ragazzi, allora ho un po' di novità per voi. Come scusa? I capelli? Giovanni, che ti devo dire? Anche io non vado dal parrucchiere come te. Vado dritto al sodo. Nasce Home Factor, il primo talent fatto da casa. Che differenza c'è tra un talent fatto da casa e uno normale? Che questo è fatto da casa. Chi lo conduce? Chi saranno i giudici? Ovviamente io e Dio. Anzi, saremo io ed Ayan, nonché mio cugino, il rapper della situazione. Cosa faremo? Valuteremo le vostre esibizioni. Sai cantare, ruttare, masticare, ballare, suonare? Inviaci un video con la tua performance a homefactortalent.com Una cosa importante, puoi partecipare solo se sei maggiorenne. Seconda novità, anzi secondo update. Se vi siete chiesti dove è finito il video in cui doppio conte con la voce di Topolino, proseguirà. Beh, la risposta è, è finito sul mio secondo canale. L'ho creato apposta per quelli che amano i doppiaggi, le mie imitazioni, eccetera, eccetera. Quindi ci saranno tante cose che non hanno a che fare con la musica. Quindi questo canale rimane, qui posterò canzoni in vari stili, canzoni con tante voci. Ma il nuovo canale arriva con tanti nuovi contenuti, con il dietro le quinte di questo canale, vlog e doppiaggi. Terza ed ultima novità riguarda la raccolta fondi che ho promosso insieme al mio video precedente. Abbiamo raccolto in una settimana 400 euro. Se non l'avete ancora fatto, avete la possibilità di guardare il video e fare una donazione. Quindi andate a iscrivervi al nuovo canale e vi metto anche il link in descrizione. E ci vediamo presto. Ciao! Ciao!